Nel comune di Pineto sono numerosi gli ucraini ospitati grazie al progetto avviato circa un anno fa messo in campo da Comune, Arci Protezione Civile della Regione Abruzzo e che ha portato al trasferimento dagli alberghi a strutture del terzo settore locale, centri di accoglienza e abitazioni di 400 rifugiati ucraini. L'obiettivo di questa importante iniziativa è stato quello di rendere le famiglie più autonome e integrarsi così al meglio nella vita del territorio. Ma a questo progetto sono legati i fondi nazionali che l'Arci di Teramo gestisce, sussidi che però, come segnalato a noi di Rete 8 dagli ospiti ucraini, da alcuni mesi non erano stati più erogati, creando così non pochi problemi. Nella nuova progettualità del 2024, a differenza del 2023, dove non ci sono stati problemi, c'è stato un ritardo di carattere amministrativo sui fondi che a livello nazionale sono stati poi rigirati al territorio. La bella notizia è che la settimana scorsa questo è stato risolto e domani noi riusciremo finalmente a effettuare tutte le erogazioni che sono richieste non solo dal bando, ma che sono necessarie appunto per ospitare una comunità così importante di 400 ucraini nel territorio di Pineto. Possiamo dire però che l'Arci si è trovata tra l'incudine e il martello, perché doveva rispondere alle richieste degli ucraini e poi doveva anche cercare di trovare una soluzione? Sì, però diciamo che appunto l'Arci è un'organizzazione che è abituata ad affrontare queste situazioni, non è solamente questa progettualità, ma fa accoglienza in tutta Italia. La cosa che stiamo riscontrando in questo tipo di progetto è che richiediamo sempre, e ringraziamo anche i beneficiari, perché dopo due mesi è stato un periodo complesso, che non esiste un'integrazione unidirezionale, si fa insieme. E in parte anche questo progetto lo stiamo cercando sempre di più ad articolare insieme ai beneficiari, perché ci permette di conoscere meglio questa cultura, che fino a ieri non eravamo abituati ad ospitare, e ci permette anche di costruire percorsi diversi nel territorio, perché è una grande opportunità che il territorio, in questo caso di Pineto, ha scelto di sostenere e anche di in qualche modo ospitare. Grazie a tutti.